Torre del Greco invasa dalla spazzatura, immagini così non le si vedevano da tempo nella città corallina e forse non si sono viste neanche durante il periodo di maggior crisi nell'area vesuviana. Come sembrano lontani oggi i tempi in cui la grande Napoli affogava tra i sacchetti dei rifiuti, mentre Torre del Greco respirava con le sue strade pulite. Il contrapposto è servito ed è ben visibile ai cittadini. Da giorni le isole ecologiche, fortemente volute dalla precedente amministrazione comunale e a cui si sono con forza educati i cittadini, sembrano mini discariche a cielo aperto. Ovunque i sacchetti strabordano dai contenitori, da via Scappi a piazza Nasseria fino al parcheggio di via Cimaglia o alla periferia torrese con in testa l'area di via Litoranea. Il passaggio dalla ditta Fratelli Balsamo alla Leuco Petra non ha giovato nell'immediato la raccolta rifiuti ed anzi ha provocato la protesta vibrante di 28 operatori ecologici che polemizzano da giorni con i vertici di Palazzo Baronale contro il passaggio di cantiere. Torre affoga, la città è arrabbiata e non tornano alcune scelte, come quelle di riportare in auge l'utilizzo di alcuni vecchi cassonetti grigi, puntualmente stracolmi di tutto. Nelle ultime 24 ore, su richiesta dei cittadini, più intenso è stato l'intervento degli addetti alla raccolta. Con difficoltà si cerca di tornare alla normalità anche se resta un problema ingombrante, almeno quanto i rifiuti che ancora giacciono sulle strade.